buongiorno oggi si è riunita la commissione per verificare gli elaborati di un concorso che è stato indetto dal nostro istituto a questo concorso hanno partecipato i ragazzi delle quinte della scuola primaria e della prima seconda terza della secondaria casalini l'obiettivo era quello di creare un nuovo logo per il nostro istituto e abbiamo lavorato molto perché dover scegliere è stato difficile, c'erano molti elaborati tutti molto belli siamo però giunti per forza a una conclusione che ha visto vincitori due ragazzi, due bambini della quinta C della primaria Giovanni XXIII, Leone Barion e Davide Luzzoni il logo che abbiamo scelto è questo, ci è piaciuto che nella spiegazione del logo i due autori abbiano spiegato anche il perché dei colori che hanno scelto e quindi il rosso dell'energia il giallo dell'entusiasmo dei ragazzi e il verde che è relativo ai giardini che attorniano le nostre scuole i plessi insomma delle scuole del nostro istituto e quindi complimenti a tutti quelli che hanno partecipato sono stati degni di menzione anche altri due elaborati che vi saranno presentati dai docenti di educazione artistica complimenti però veramente a tutti perché abbiamo scelto questo ma ripeto che non è stato assolutamente semplice grazie a tutti i ragazzi che hanno partecipato e alle loro insegnanti una menzione speciale va ad Emma Romeo e ad Alice Tavagli della classe primaria della Casalini per l'eccellente realizzazione grafica, l'originalità della scelta degli elementi e simbolici che sono stati utilizzati ecco qui l'elaborato un'altra menzione va ai ragazzi della terza B che hanno realizzato questo logo ovvero Linda, Leonardo e Aya per la bellante ideazione e anche per la resa grafica nonché la strutturazione delle lettere in un logo che forse è producibile anche più in piccolo bravi veramente a tutti grazie grazie